Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video tanti di voi soprattutto su Instagram mi hanno scritto appunto sapendo dell'uscita del Mavic Air 2 questo nuovo attesissimo drone prodotto da DJI appunto mi hanno chiesto se era meglio acquistare il Mavic Air 2 o il Mavic Mini questo appunto è un dilemma che affligge veramente tante persone che vogliono approcciarsi al mondo dei droni ovviamente chi ha già un drone di un certo livello sa già scegliere di suo cosa è meglio fare guardando le varie recensioni magari vari test le varie prove leggendo le caratteristiche di un determinato drone ma chi vuole iniziare vuole approcciarsi al mondo dei droni spesso si trova in difficoltà appunto su quale drone scegliere magari uno è intenzionato a prendere appunto un prodotto DJI perché comunque ovviamente è il marchio leader nel mondo dei droni ma non sa quale modello scegliere perché magari pensa che se acquista un determinato drone poi magari non andrà bene o non soddisferà le sue esigenze quindi dovrà cambiarlo però magari non vuole acquistare subito un drone che costa tanto perché pensa di non poterlo sfruttare o che magari arriva il momento in cui si stanche non gli interessa più diciamo utilizzare un drone e ha speso una determinata cifra magari abbastanza importante quindi tutte queste cose insieme mettono in crisi veramente chi vuole approcciarsi al mondo dei droni quindi questo video cercherò di spiegare se è meglio acquistare un Mavic Air Mini o un DJI Mavic Air 2 ovviamente tralascerò il Mavic Pro perché comunque non è un drone del momento e poi una fascia di drone che voglio dire uno che inizia magari non valuta nemmeno già solo per il prezzo mentre questi due droni sicuramente potrebbero rientrare appunto nella scelta di uno che inizia e vuole subito partire con un marchio importante come DJI allora partiamo dal Mavic Mini sicuramente il Mavic Mini è stato il drone rivoluzionario per il suo peso perché comunque mai nessuno è arrivato a costruire un drone di queste dimensioni di questo peso con queste caratteristiche tecniche soprattutto nel comparto video e nel comparto batteria quindi queste due cose in un peso così ridotto veramente hanno fatto quasi gridare al miracolo perché comunque DJI è riuscito secondo me a fare un prodotto pazzesco appunto in questo peso e dimensioni ovviamente ha dei limiti che il Mavic Air 2 magari non ha però partiamo e andiamo con ordine allora partiamo dal prezzo ovviamente il Mavic Mini costa esattamente la metà del Mavic Air 2 nella versione base il Mavic Mini costa 399 euro il Mavic Air 2 costa 849 euro poco più del doppio del Mavic Mini quindi già questo può far oscillare la bilancia verso il Mavic Mini o Mavic Air 2 ma supponiamo che uno possa dire no ma io non ho un problema economico quindi posso spendere tranquillamente 849 euro quindi scelgo il Mavic Air 2 indipendentemente perché comunque non mi interessa spendere quei soldi no secondo me non gira tutto solo intorno al lato economico sebbene quello è forse una delle diciamo le cose più importanti quando scegliamo un drone perché comunque alla fine il lato economico è importantissimo però sicuramente non è l'unica cosa che ci fa scegliere un drone o un altro allora partiamo dal fatto soprattutto delle dimensioni e peso il Mavic Mini appunto essendo un drone che pesa 249 grammi rientra nella fascia di droni appunto sotto i 250 grammi quindi per prima cosa non ha bisogno dell'attestato di pilota APR per situazioni non critiche quindi questo attestato per questo piccolo drone non è necessario mentre per il Mavic Air 2 è sicuramente necessario dal primo di luglio che poi però forse non sarà più il primo di luglio causa appunto situazione sanitaria che sta attraversando l'Europa verrà tutto spostato ai primi di gennaio quindi questo Mavic Mini non avrà bisogno di quello mentre il Mavic Air 2 sì quindi questa è un'altra cosa che uno potrebbe dire no io il corso non lo voglio fare non mi interessa avere l'attestato quindi mi compro il Mavic Mini un'altra cosa che potrebbe far oscillare l'ago della bilancia verso uno verso l'altro sono le caratteristiche della fotocamera il Mavic Mini ragazzi fa video pazzeschi perché sebbene ha una fotocamera da 2,7k e non è in 4k ma se andate a vedere i miei cinematic video vi rendete conto della qualità video di questo piccolo drone che sebbene ha un 2,7k ha un 2,7k di qualità pazzesca perché comunque ragazzi partite sempre dal presupposto che la qualità video non è data solo dal 2,7k o dal 4k ma appunto dalla qualità di questi 2,7k o 4k che vengono dati e il Mavic Mini ha un 2,7k di qualità veramente top quindi non fatevi diciamo trasportare dal 4k che wow 4k no comunque questo 2,7k è sicuramente eccezionale ovviamente il 4k è un'altra cosa però va anche sfruttato e magari a qualcuno non interessa perché dipende dove guardate i video e poi comunque avete un file 4k da elaborare e da fare un video editing mentre il 2,7k è sicuramente un video più leggero da elaborare quindi qualsiasi computer è in grado di gestirlo più facilmente quindi tutto dipende dall'utilizzo che uno ne deve fare dei video che è andato a fare un'altra cosa che si guarda spesso in un drone è la durata delle batterie perché quello veramente è importante perché fa la differenza appunto nel divertimento e nel godersi un drone allora il Mavic Mini e il Mavic Air 2 hanno diciamo un'autonomia più o meno uguale minuto più minuto meno siamo intorno ai 30 minuti che poi possono essere 28 27 però diciamo diamo una media di 30 minuti quindi diciamo che a livello di autonomia delle batterie siamo lì quindi questo non ci fa diciamo scegliere né uno né l'altro quindi potremmo scegliere uno e l'altro che da quel punto di vista sono praticamente identici poi un'altra cosa che fa la differenza ovviamente è anche la rumorosità dipende dove li utilizziamo noi questi droni perché comunque il Mavic Air 2 sarà sicuramente più rumoroso del Mavic Mini che è un drone secondo me silenzioso mentre il Mavic Air 2 lo sarà sicuramente molto di meno quindi anche questa cosa è un diciamo un'altra motivazione che potrebbe farci scegliere uno o l'altro drone un'altra cosa è l'applicazione e l'utilizzo nello smartphone allora entrambi i droni utilizzano la stessa applicazione quindi entrambi utilizzano la DJI Fly quindi l'applicazione è uguale per entrambi con la differenza che con il Mavic Air 2 avremo delle funzioni aggiuntive all'interno dell'applicazione che ovviamente per il Mavic Mini non ci sono ma dal punto di vista grafico e dell'utilizzo sono la stessa applicazione con l'aggiunta ovviamente di opzioni di voli automatici e via dicendo che magari per il Mavic Mini non ci sono e non ci saranno probabilmente mai un'altra scelta che dovete valutare se volete avere un drone che è in grado di seguire un soggetto il Mavic Mini non è in grado di seguire un soggetto attualmente non ha questa funzione secondo me DJI non la implementerà mai perché DJI ha diversificato molto bene i suoi droni proprio in tre fasce e li ha diversificati secondo me in maniera perfetta così da avere proprio tre droni diversi e uno deve diciamo scegliere o uno o l'altro l'altro non ha un drone simile li ha proprio diversificati e questa funzione dell'active track cioè seguire il soggetto secondo me qua non sarà mai implementata e se uno ci tiene ad averla perché la utilizza per farsi seguire quando va con la mountain bike o quando fa una corsa a piedi cioè non lo so in base all'utilizzo che uno ne deve fare questa diciamo potrebbe essere un motivo di scelta del drone perché se acquista un drone poi questa funzione la deve utilizzare e non ce l'ha dice caro ho speso 400 euro e non posso fare questa cosa che mi interessava tantissimo quindi questa sicuramente è una cosa da valutare un'altra cosa che va valutata è se interessano o meno i sensori anticollisione perché il Mavic Mini non ha sensori anticollisione né davanti né dietro ha solo quello sotto diciamo mentre il Mavic Air 2 ha quello sotto ha quello anteriore a quello posteriore quindi ha questo sistema di anticollisione che evitano che il drone vada sbattere quando lo stavamo facendo volare appunto o di muso o di sedere del drone però in questo caso invece non abbiamo i sensori ma abbiamo la possibilità di mettere una gabbia che all'interno della confezione quando lo acquistiamo che va a proteggere tutto il drone quindi se vogliamo con tutto diciamo la sua protezione è vero che possiamo andare a sbattere non succede niente a Mavic e Mini e questa protezione ci permette di utilizzare il drone anche al chiuso in diciamo in spazi ridotti quindi utilizzarlo in casa una cosa che con il Mavic Air 2 è improponibile e non ha proprio senso fare perché comunque è un attimo andare a sbattere anche con i sensori anticollisione comunque perché non li ha lateralmente e in casa comunque gli spazi sono ridotti per un drone che diventa abbastanza grande di dimensioni mentre il Mavic Mini con la sua diciamo la sua gabbia che gli viene montata intorno è possibile utilizzarlo anche in casa e un altro motivo che potrebbe far scegliere o meno un drone dall'altro è l'utilizzo che se ne deve fare a livello familiare nel senso che se è un drone che deve essere utilizzato anche da bambini chiamiamoli bambini o ragazzini sicuramente il Mavic Mini è più adatto perché comunque lo ingabbiamo con la sua gabbia è un drone più tranquillo è un drone più maneggevole più piccolo silenzioso come vi dicevo secondo me è più adatto per un ragazzino che deve imparare o che vogliamo comunque fargli provare il nostro drone il Mavic Air 2 è già un drone più impegnativo dal punto di vista economico nel caso lo dovessimo andare a danneggiare e poi comunque non è avendo un'ingabbiatura è un attimo che si possa andare a sbattere perché comunque i sensori ripeto sono solo anteriori posteriori e sotto lateralmente sopra non ci sono quindi non è detto che non si possa andare a sbattere lateralmente o addirittura anche andando a sbattere nel senso facendo schiantare il drone contro per dire il soffitto di qualcosa o sotto una pianta piuttosto che comunque i sensori sopra non ci sono ed è un attimo che il drone possa andare comunque a danneggiarsi poi un'altra cosa che va tenuta conto nella scelta di questi due droni è sicuramente la connessione wifi allora il Mavic Mini ha una connessione wifi abbastanza classica è vero c'è la possibilità di scegliere tra la 5,8 e la 2,4 in base alla situazione appunto di interferenze che abbiamo io con questo drone in zone senza interferenze sono arrivato a due chilometri quindi non è diciamo scadente dal punto di vista del wifi però sicuramente non ha locusync 2 sistema wifi creato da dji che ottimizza appunto la connessione indirezzando direttamente le onde in maniera più precisa verso il drone e dando quindi un range maggiore e un appunto un segnale più stabile infatti il ritorno video del Mavic Mini è di 720p cioè nello smartphone noi avremo una soluzione di 720p mentre nel Mavic Air 2 avremo una risoluzione a 1080p che poi scalerà a 720p man mano che diciamo il segnale diventerà più scadente però deciderà lui quando scalare a 720p ma se il segnale è forte lo vedremo infatti in full hd nel nostro smartphone e questa cosa dà sicuramente più sicurezza perché comunque è vero il range di distanza bisogna rispettare quello che sono diciamo le distanze di legge però anche è vero che nelle distanze di legge avere un segnale più forte è sicuramente importante perché non ci fa mai perdere o comunque non ci fa mai laggare l'immagine che stiamo guardando quindi l'immagine che vediamo nello smartphone sarà quasi in tempo reale anche con quel leggero ritardo ovviamente che si crea ma è proprio un leggero ritardo mentre se l'immagine inizierà a laggare sicuramente un po' di fastidio ce lo darà e ci farà anche magari un po' spaventare perché ci sembra che il drone ne faccia un po' quello che vuole anche se in realtà non è così e in più se qualcuno poi volesse tra virgolette oltrepassare la distanza di legge sicuramente il Mavic Air 2 è il drone perfetto per farlo il Mavic Mini un pochino meno perché sente troppo appunto le interferenze quindi va tutto in base alla situazione e alla zona dove stiamo volando appunto in base alle interferenze mentre il Mavic Air 2 sente anche lui ovviamente le interferenze e la distanza anche lì cambia in base a quello però le sente un po' meno quindi ci dà appunto quelle range maggiore quel diciamo ritorno video più sicuro e più stabile quindi ragazzi in conclusione se volete acquistare un drone senza spendere cifre pazzesche e vi interessa una qualità video ottima ma non eccessa e vi interessa un drone silenzioso che comunque vola 30 minuti e siete agli inizi Mavic Mini tutta la vita se invece se invece avete già un drone low cost è tipo non so un absanzino piuttosto con film x8 e volete passare a DJI perché sicuramente il livello è tutt'altro a livello qualitativo a livello video cioè tutto un altro livello e volete fare un passo in avanti ovviamente non il Mavic Mini ma il Mavic Air 2 è sicuramente la scelta ideale perché comunque partite da una base partite da dei droni già importanti e vuol dire che comunque vi interessa avere un determinato tipo di drone però con delle caratteristiche tecniche maggiori è sicuramente un prodotto molto più di qualità quindi ragazzi spero di avervi chiarito un pochino le idee di non avervi creato più confusione di quella che avevate già scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate se meglio acquistare un Mavic Mini o Mavic Air 2 voi cosa avete acquistato voi cosa acquisterete se siete indecisi quindi ragazzi commentate scrivetemi voi le vostre opinioni spero che questo video vi sia stato d'aiuto vi sia piaciuto se è così ragazzi lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi anche un video un buon recensione in testo tutorial novità ciao